L'operazione funzionava secondo il principio e con l'aggiunta delle sostanze chimiche è possibile garantire che solamente i gronelli di piombo o di zinco si attaccano alle bolle salgono con le bolle e possono essere raccordi. Il processo è abbastanza complicato chimico. In generale, primo, si aggiungeva oltre spelt e flex, così spelt e flex, due nomi commerciali di sostanze chimiche usate. Siamo tutti e due exaltati, un gruppo chimico usato nella frontezione. Questi erano i nomi commerciali.